anche quest'anno si celebra la giornata nazionale per la donazione degli organi quest'anno si parte da un ottimo risultato conseguito nel 2023 in campagna si è segnato un decremento con dati addirittura inferiori al periodo del covid appena 102 segnalazioni di accertamento di morte e solo 45 donatori effettivi se la media nazionale di 28 donatori per milioni di abitanti in campagna siamo ad un mediocre pmb un elemento di questo incremento nelle donazioni sicuramente l'aumento delle persone che si dichiarano a favore alla donazione sia in sede di rilascio delle carte di identità elettronica sia presso gli sportelli dell'asl che attraverso l'adesione sono circa 19 milioni i cittadini che si sono espressi favorevoli la campagna anche qui mostra dati più bassi il 58 9 per cento ha detto sì e quindi le opposizioni sono circa il 42 per cento è giusto sottolineare che la donazione degli organi è un atto volontario e gratuito si può esprimere la propria volontà di diventare donatore oltre che in sede di rilascio della carta di identità elettronica anche presso gli sportelli amico tra pianti dell'asl e aderendo all'aido attraverso il sito